Circolazione depressionaria con minimo sul canale di Sardegna in fase di lento esaurimento, quasi stazionaria sul posto. La prossima settimana sarà caratterizzata da infiltrazioni di aria fresca in quota che manterranno condizioni di moderata instabilità, in particolare durante il pomeriggio nelle zone interne mutuose. In Toscana sabato 5 maggio, nuvoloso, molto nuvoloso con possibilità di piogge sparse. Rovesci sparsi ai locali temporali saranno più frequenti e provabili tra la fine della mattinata e nel corso del pomeriggio. Cessazione dei fenomeni in serata. Venti deboli da sud-est sulla costa, da nord-est nell'interno, mari poco mossi, temperature quasi stazionali. Sul territorio provinciale da nuvoloso a molto nuvoloso con deboli piogge nel pomeriggio. A Lucche sulla Piana, temperatura minima 12, massima 24 gradi. A Castelnuovo-Garfagnana e zone montane minima 12, massima 24. A Via Regge sul litorale minima 15, massima 21 gradi. Domenica da coperto fino a poco nuvoloso in serata. Temperature pressoché stazionarie.